Noi oggi parliamo di come si può vivere pienamente quella fase della vita dai confini sempre più incerti che chiamiamo terza, quarta età, come ci si prepara anche perché è importante prepararsi presto. Non è soltanto una questione di reddito, quello che fa la differenza è la sana alimentazione, il movimento fisico, la compagnia, relazioni sociali, il buon umore, le cure giuste. Beh, tra poco ve ne parleremo e nel frattempo vi faccio vedere dove si trova la nostra Marta Manzo. Ciao Marta! Ciao Gabriella, buon pomeriggio, sono al centro Anziani, Cecchina Guzzano di Via Tuscolana dove è appena iniziata la lezione di ginnastica dolce, lezione tenuta dalla WISP di Roma, l'Unione Sport per Tutti. Alle mie spalle c'è Francesca che sta facendo appunto lezione con le signore che vengono qui proprio per fare ginnastica dolce. È cominciata diciamo la fase di attivazione muscolare e tra poco vedremo insieme alcuni dei movimenti, alcune sequenze per tenersi davvero in forma. Vi aspettiamo tra poco. Grazie Marta, noi siamo davvero curiosi perché possiamo imparare qualcosa di utile con voi. E a questo punto quale migliore introduzione, anzi reintroduzione perché abbiamo iniziato già a vedere dove si trova, per la nostra Marta Manzo. Eccomi Gabriella, continua infatti la lezione insieme all'insegnante Francesca Brienza che sta tenendo appunto la lezione con le signore. Francesca, perché è fondamentale fare attività fisica intanto? Fare attività fisica quando si diventa più grandi? Intendo proprio questo. Per le persone over 60 e allora è fondamentale innanzitutto per mantenere le capacità complete di fare tutti i movimenti che una vita autonoma richiede. Sembra una cosa quasi scontata, in realtà non lo è per niente perché da una certa età in poi il movimento tende un po' a peggiorare. E quindi mantenere in funzione tutte le capacità motorie, mantenere vive tutte le funzioni di movimento quotidiane è una cosa importantissima per mantenere l'autonomia e l'autosufficienza fino a età tardissima. Tu mi hai detto prima non è un allenamento, è un modo per tenere appunto i muscoli in funzione. E voi fate delle sequenze, proprio dei movimenti consecutivi che servono appunto a stare meglio. Ce ne puoi mostrare uno? Sì, la faccio adesso? Certo. Sì, allora faccio vedere una sequenza di movimenti che stiamo facendo in questo periodo e che poi le signore faranno insieme a me. Iniziamo dalle spalle, poi coinvolgiamo le braccia insieme alle gambe, insieme alla colonna. È una sequenza che mette insieme i movimenti degli arti con i movimenti del centro. Quindi integra il movimento della colonna vertebrale con il movimento delle braccia e delle gambe. E questo è molto importante per mantenere la coordinazione di tutte le parti del corpo. Questo è un pezzo di questa sequenza. C'è una parte anche legata ai piedi? Voi partite sempre dai piedi? Sì, partiamo sempre, quasi sempre dai piedi. Quasi sempre la lezione inizia dall'appoggio dei piedi, dall'ascolto dell'appoggio dei piedi e dal movimento dei piedi. Perché la componente dell'equilibrio è importantissima. Quindi molte delle cose che facciamo in queste lezioni servono proprio per migliorare l'equilibrio. O comunque per mantenerlo allenato. Io ringrazio Francesca Brienza, la rimando a fare lezione con le signore. Gabriella, tra poco ne sentiremo alcune che sono qui da già molto tempo. Ti ridò la linea. Grazie, vogliamo sentirle le signore. Allora, adesso io vorrei tornare da Marta Manzo perché stiamo imparando tante cose su come tenerci attivi a tutte le età. Marta, a te. Eccoci, sì Gabriella, stiamo procedendo con la lezione di ginnastica dolce. Io vorrei avvicinarmi un pochino per parlare con le persone che partecipano a questo corso. E in particolare vorrei intercettare la signora Amalia. Amalia, buongiorno. Buongiorno. Lei viene spesso qui, ormai sono 15 anni in salute. Sono 15 anni, sì. Quanti anni ha? 80, con più di pochi giorni fa. Perché fa attività fisica? Per mantenermi in forma e per star bene proprio in salute. L'abbiamo fatta anche durante il lockdown. Siamo andati in un parco qui vicino e abbiamo con te Francesca continuato a farci fare ginnastica. Lei riesce a seguire bene gli esercizi? Sì, sì. Perché è brava Francesca? È molto brava Francesca, sì. Se siete in difficoltà che cosa fate? Sedete? Sì, a parte il fatto che spesso abbiamo la sedia vicino, quindi se vogliamo sederci ci si può sedere. No, è tutto fatto con molta tranquillità. Io invece poi mi vorrei spostare anche dalla signora Ada. Ada, disturbo anche lei mentre fa lezione. Perché viene al corso? Perché è indispensabile. Cioè se non lo faccio mi vengono dolori dappertutto. Così ce li ho più composti e poi riesco a recuperare. E da quanto tempo viene qui? Una decina d'anni circa, non mi ricordo esattamente il periodo. Hai conosciuto i corsi della Uespa? Ah, molto interessante. La mia consuocera mi ha costretto di forza a venire perché io ero una persona contraria assolutamente all'attività fisica. Eppure adesso si sente molto meglio? No, è indispensabile, è indispensabile perché se non la faccio c'ho di olori, per cui faccio, faccio e farò. Grazie Ada, continuate pure a fare lezione. Gabriella, dal centro di Via Nomentana ti restituisco la linea. Grazie, complimenti agli insegnanti, complimenti agli allievi, veramente a tutti quanti.